Oltre 600 eventi tra laboratori didattici, attività sportive, concerti, street art, talk show, giochi e tante attività per grandi e piccoli dedicate all'ambiente, all'educazione climatica, all'innovazione, alla cultura e allo sport. Anche l'Italia celebra così l'Earth Day 2023, la 53esima giornata mondiale della Terra, la più importante manifestazione ambientale delle Nazioni Unite, che si tiene il prossimo 22 aprile in tutto il mondo per salvaguardare l'ambiente e il pianeta Terra, con oltre un miliardo di cittadini coinvolti da 75.000 organizzazioni in 193 paesi. Tante le manifestazioni in programma nell'evento italiano, organizzato da Earth Day Italia e Movimento dei Focolari. Per la prima volta le celebrazioni ufficiali si svolgeranno sia in presenza con il Villaggio per la Terra di Villa Borghese a Roma e con quello di Torino, alla sua prima edizione, sia in forma digitale, con la maratona multimediale One People, One Planet. Devo dire che in questi anni la sensibilità è cresciuta in maniera esponenziale, oggi siamo nel momento decisivo per passare dalle parole ai fatti. Quindi questi eventi vengono tutti indirizzati verso i giovani che possono produrre il cambiamento e verso tutte le figure sociali che possono generare una conversione ecologica profonda, per sensibilizzare l'opinione pubblica al cambiamento culturale di cui il pianeta ha sempre più urgente bisogno. A Roma, il Villaggio per la Terra, al Galoppatoio di Villa Borghese e sulla splendida Terrazza del Pincio, dal 21 al 25 aprile ospiterà oltre 600 eventi, tutti fruibili gratuitamente. Fulcro del Villaggio saranno i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, approfonditi attraverso 17 piazze multimediali guidate da giovani universitari di diversi atenei. Particolare attenzione andrà al coinvolgimento degli studenti nel quadro del Festival dell'Educazione alla Sostenibilità. Scuole di ogni ordine e grado di tutta Italia prenderanno parte attivamente alle celebrazioni. Per i più piccoli è stato preparato il Villaggio Bambini, in collaborazione con Unicef e altre associazioni, ricco di divertenti laboratori. E' una parte dell'impegno, in questo caso dei giovani, per sensibilizzare i più anziani forse. E naturalmente è un'azione forte, perché è nata quasi spontaneamente e poi si è consolidata ed è in questo momento un appuntamento importante. Uno dei tanti scalini che dobbiamo fare a livello mondiale per preservare quello che è il più grande pagemonio che abbiamo, la Terra. Sempre a Roma, il 22 aprile alla nuvola di Fuxas, è invece in programma la quarta edizione della maratona multimediale One People, One Planet. 16 ore di contenuti live, trasmessi in diretta su Rayplay e indifferita su Vatican News, con top show, collegamenti internazionali, testimonianze artistiche, scientifiche ed istituzionali. Clou della manifestazione e la grande serata evento all'auditorium della nuvola, con lo storico concerto per la Terra e le esibizioni di grandi artisti, da Arisa a Leo Gasman, da Ermal Meta a Tommaso Paradiso. Del pianeta LAUGHTER